Buongiorno, sono il dottor Muhammad Nathur da Genova, mi occupo di medicina amodistica, acupuntura, omopatia, croterapia e altro. Da una quindicina d'anni che io uso i medicinari omoopatici, con ottima risposta, anche sia per i pazienti che per me come professionista, perché con questo metodo io ho potuto praticamente integrare anche poi la terapia alle parmici, anche allopatici, anche alle mezze diagnotici tradizionali e abbiamo trovato un'integrazione ottimale che ha beneficio praticamente dei pazienti. Sappiamo bene che il metodo omopatico è un metodo assolutamente ecologico, prende in considerazione la totalità della persona e cerca il quanto possibile di curare la persona che ha determinate patologie e non solo le patologie della persona. Ultimamente veniamo a sapere che praticamente c'è una limitazione alla realizzazione dei medicinari omoopatici che cercano di far passare all'evere dell'aipa e che questo sicuramente poi avrà una ricaduta sia sotto su di noi come professionisti perché non avremo la libertà praticamente di prescrivere i determinati di farmaci omoopatici che assolutamente sono utili, efficaci e addirittura necessari in determinati situazioni per il paziente e ci priva la possibilità di ottenere risultati ottimali per i nostri pazienti e di farci anche crescere professionalmente avendo proprio l'esperienza con queste prescrizioni. Oltre il fatto che poi c'è un discorso etico che effettivamente questo qua rimedierebbe anche quella nostra libertà di scelta dell'evere perché noi vogliamo assolutamente alcun sottoproccio. Ecco per cui mi piacerebbe tanto perché voi, io, tutti quanti praticamente con le nostre anche possibilità di farlo vorremmo assolutamente bloccare queste disposizioni e facendo fermare praticamente la petizione che voi troverete su un sito che è www.omeocom.it. C'è un documento praticamente della petizione e c'è la possibilità di fermare già direttamente online perciò è molto semplice, molto veloce e sicuramente sarà molto determinante per darci un aiuto assolutamente sia noi come professionisti che voi che come utilizzatori praticamente di questa ottima terapia. Oltre il fatto che praticamente voi sapete che effettivamente in Europa, in tutti i paesi europei praticamente non esistono queste disposizioni veramente assurde e assolutamente in malafete. Grazie a tutti e fermiamoci numerosi.